Il Partito Democratico vuole privatizzare la sanità e Massimo Seri ci sta mettendo la faccia, deve quindi bloccare la strategia del suo partito, altrimenti faccia in modo che il PD non governi più questa città. Non usa a mezzi termini l'ex sindaco di Fano Stefano Guzzi che torna a parlare di sanità dopo il dibattito politico dei giorni scorsi. O Seri riesce a portare avanti le sue tesi con forza e in questo caso chiede aiuto e l'aiuto lo troverà anche da parte del sottoscritto, ma se lui non riesce, come non sta riuscendo a far valere queste tesi, occorre che dia una mano a disolare il PD. In quale modo? Dimettendosi, tornando a votare a Fano in modo che ci sarà una nuova maggioranza, una nuova coalizione senza il Partito Democratico e si potrà portare avanti con più forza, più nettezza e più chiarezza questa battaglia contro Ricci, contro il PD regionale che vuole portarsi via all'ospedale e portare a Fano un'altra iniziativa. Il percorso del PD, prosegue a Guzzi, è quello di svilire la sanità scoraggiando i medici, aumentando la mobilità passiva, i tempi delle liste d'attesa, tutto questo fino ad arrivare alla chiusura del Santa Croce per poi sostituirlo con un nosocomio messo a bando per un investimento privato convenzionato. Lo ha detto Ceriscioli, ormai da tempo, lo ha detto per la prima volta, ancora mi ricordo alla festa dell'Unità Urbino a luglio, quando lui era appena stato eletto, ha parlato di clinica privata di Cotignola nella nostra provincia. Lo ha detto Marchegiani, segretario del PD di Fano e vice sindaco, tre mesi fa sulla stampa locale, ha parlato della possibilità di portare a Fano una clinica privata. Allora, se portare una clinica privata a Fano fosse un affiancamento all'attuale sanità, ci può anche stare, può essere utile, ma qui purtroppo si parla di sostituire la sanità pubblica con quella privata, si parla di portare al Santa Croce, al posto di un ospedale, una clinica privata. Ecco, questo noi non possiamo assolutamente accettarlo. Quindi assistiamo proprio a un sindaco isolato, isolato verso Pesaro, isolato verso la regione, isolato verso il PD più in complessivo. Allora, il problema qui non è tanto il sindaco di Fano, il problema è il Partito Democratico che ha questo progetto e lo vuole portare nella nostra città.